Si sono aperte le porte del carcere per un 37enne di origini serbe, gravemente indiziato di rapina aggravata in concorso con altri. L'indagine è stata avviata dai carabinieri della cittadina Sannita di San Leucio nel 2020 dopo una rapina attuata da tre soggetti che in pieno giorno con il volto travisato da un passamontagna ed armati e con una mazza di legno si erano introdotti in una casa nella zona di Epitaffio ad Apollosa. I ladri erano stati visti dal proprietario dell'abitazione che mentre stava rientrando con la moglie aveva visto fuggire gli sconosciuti con la refurtiva tra le mani. Uno di questi nel tentativo di scappare era finito contro un'autovettura in transito cadendo al suolo. Il complice al fine di assicurarsi l'impunità e il bottino appena rubato aveva minacciato la donna utilizzando la mazza in legno che portava con sé senza fortunatamente provocare alcune lesioni. Durante la fuga perdevano un cellulare ed una scarpa. Proprio da questa scarpa è stato possibile risalire all'identità di uno dei rapinatori con gli esami del RIS di Roma sul DNA dell'uomo poi indagato già noto alle forze dell'ordine quale indiziato per analoghi reati predatori avvenuti anche in un'altra zona del sud Italia.